Quante belle cose ci dà la vita! Fosse anche solo per vederti crescere, vale davvero la pena esserci? Certo non è sempre così, lo sappiamo tutti. A volte è difficile, doloroso. Io per esempio mi sono ammalata, gravemente. Ma proprio qui, al San Raffaele, sono stata accolta, sono stata curata e mi hanno guarita. E mi hanno ridato la gioia di vivere. Ecco perché ho deciso di dedicare un lascito al San Raffaele. Perché tante altre nonne come me, e mamme, e papà, e bambini possano essere curati? Anche grazie a me. Perché si faccia più ricerca per trovare nuove cure. Perché sempre più persone possano guarire. Il mio lascito al San Raffaele. Il più bel regalo della mia vita. Un lascito al San Raffaele diventa ricerca, diventa cura, diventa vita. Per saperne di più, chiama allo 02 26 43 44 61 o vai su sanrafaele.org.